Si chiama Sabina Altimbekova, è la pallavolista del momento che sta mandando in visibilio tutti i maschietti del web, non tanto e non solo per le sue acrobatiche carambole in campo, quanto per il fascino a quel sapone che emana. Sabina ha solamente 18 anni, gioca nella nazionale kazaka di pallavolo e si è messa in mostra ai campionati under 19 asiatici a Taiwan. Non si contano più le dichiarazioni d'amore nei confronti della sexy miss pallavolo, con la frangetta ben curata, i capelli lunghi e il fisico da modella nascosto sotto la divisa. A forza di ricevere tanti complimenti su Instagram e Facebook, Sabina sta attirando su di sé l'antipatia delle compagne di squadra che protestano perché i tifosi sembrano interessarsi più a lei che ai risultati della squadra. Per chi volesse saperlo, il Kazakistan si è piazzato al settimo posto.